E qui siamo. Posto? Va bene il quadro duro? Buonasera, benvenuti a tutti voi nella libreria Rotondi e benvenuto anche a chi ci segue dal canale YouTube. Questa sera parleremo di René Ghenon e la libera muratoria e la conferenza prende spunto da questo libro appunto René Ghenon e la libera muratoria pubblico da Bastoggi che è uscito di recente quindi è disponibile veramente da pochi mesi e lo faremo insieme al curatore Sergio Castellino che ne discuterà insieme allo scrittore Natale Mario Di Luca. Quindi vi ringrazio di essere qui questa sera e vi lascio la ruota. Bene, comincio io. Prego. È un piacere essere questa sera sia per la presenza di diversi amici e conoscenti ma anche perché al di là della finalità specifica erano molti anni che non entravo più in questa libreria che mi ha richiamato ricordi piuttosto remoti nel tempo mi è venuta in mente l'espressione della libreria dei stili incrociati perché il mio incontro con René Ghenon credo che nasca proprio qui in questa libreria una sessantina anni fa per merito o per colpa non so di una persona qui presente un caro amico che conobbi appunto in questa sede che mi fece conoscere non solo le opere di Ghenon ma molte altre quindi da lì prese via un percorso che mi ha portato qui fino ad oggi quindi è stato molto bello rinnovare la libreria è cambiata poi c'era il vecchio signor Rotondi c'erano altri scaffali però il fascino rimane lo stesso fatto questa concessione al vissuto parlo subito del curatore di questo libro autore e curatore perché poi in realtà non si è limitato a assemblare brani di René Ghenon ma è stata un'operazione di scelta ragionata di selezione dei testi anche di commento e di collegamento tra i testi diversi anche quello che non è stato possibile ovviamente trascrivere quindi sono dei riferimenti testuali che consentono poi a chi vi abbia interesse di poter approfondire dunque Sergio Castellino è un giovane io tale lo consiglio perché ha dieci anni meno di me è nato nel 59 a Torino però credo che per molto poco tempo perché la famiglia si trasferì a Sanremo dove ha sempre vissuto e tutt'ora risiede e si è laureato in scienze naturali e ha poi insegnato credo per tutta la vita fino a un paio di anni fa presso il locale liceo scientifico normalmente la materia di sua competenza cioè le scienze naturali e però credo già da prima del pensionamento sia operosamente dedicato proprio a René Ghenon evidentemente mettendo a frutto degli studi che sono andati avanti a quanto tempo quindi da diversi anni perché la sua è una conoscenza approfondita del tema e a questo riguardo un consulto degli appunti perché ormai non mi fido più molto della mia memoria ha pubblicato uno studio sull'apocalisse di Giovanni alla luce dell'insegnamento René Ghenon nel 2020 che è già pervenuto anche a una seconda edizione e poi ha curato un lessico hindù nell'opera ghenoniana questo sempre nel 2020 che è un dizionario della terminologia d'origine saskita utilizzata da René Ghenon nelle sue opere e nel 2022 ha inoltre curato la traduzione e ha anche scritto una posterazione a un'altra opera importante di Ghenon che è il San Bernardo che era già stato tradotto in italiano in precedenza ma purtroppo questo devo dirlo spoglio di più o meno non provveduto di soverche indicazioni quindi penso che questa nuova edizione e la posterazione di Sergio abbiano colmato una lacuna e poi finalmente arriviamo a questa opera più recente cioè questo René Ghenon e la libera muratoria due parole e poi ovviamente lascio il verbo a Sergio per dire che mettere insieme tutti gli sparsi riferimenti di René Ghenon sulla massonaria è un'opera che io avrei considerato improba o difficilissima se non impossibile attuazione questo perché i 27 volumi che compongono il corpus dell'opera chenoniana dieci pubblicati in vita e i rimanenti post mortem sono pieni di quale più quale meno di riferimenti alla libera muratoria alla sua storia al suo simbolismo ma ovviamente non sono oggetto di una specifica e unica trattazione quella che più ci si avvicina è gli studi sulla massoneria e il compagnonaggio che però è una collezione di testi eseguita post mortem da altri studiosi anche un po' arbitraria nella sua selezione e che comunque sono poca cosa rispetto ai riferimenti alla massoneria che sono disseminati in tutto l'ambito dell'opus chenoniano quindi mi felicito con Sergio ci ha o meno ha facilitato queste ricerche per chi vi abbia interesse mi viene in mente soltanto qualcuno che ci ha provato ma in maniera molto più blanda cioè il dizionario dell'essio chenoniano di Mark Vivandi che mi pare che sia stato anche tradotto in lingua italiana però è tutt'altra cosa in vicenza è una diciamo così una selezione ragionata e commentata molto specifica orientata sull'argomento libera muratoria detto questo penso che sia più interessante sentire il curatore dell'opera a questo punto grazie per questa presentazione troppo lusinghiera ringrazio ovviamente i gestori della libreria ringrazio chi ha fatto da intermediario non lo nomino ma ci sono stati degli intermediari visto che io abito a Sanremo quindi non potevo condurre le trattative di persona e cominciamo un po' a entrare nel merito della questione ecco volendo fare un brevissimo accenno sul mio primo incontro con Guenon devo dire che ha avuto anche a che fare con la mia attività che ho svolto fino a poco più poco meno anzi di due anni fa cioè quella di insegnante di scienze perché uno dei primi brani che mi capitò di leggere andava contro il darwinismo non in maniera specifica Darwin non viene mai nominato da Guenon ma andava contro l'ideologia del progresso indefinito che sottostà poi allo scientismo un positivismo che non tramotta mai e devo dire che ebbe una specie piccolo piccolo naturalmente shock perché non mi era mai capitato prima di allora avevo ero studente ancora all'università non mi era mai capitato in nessuna occasione sia delle materie di studio sia altrove di sentire una voce contraria e la cosa mi colpì poi vabbè da lì c'è stato un ampliamento della lettura visto che non c'era solamente quello non c'era solo la parte critica però devo dire che l'inizio mi ha colpito e avrebbe potuto anche respingermi ma così non è stato per quanto riguarda invece il libro di cui parliamo questa sera io mi sono orientato in questo modo innanzitutto ho cercato di non sovrapporre il mio pensiero le mie preferenze a quello che poi scaturisce dalla lettura cioè io posso dire non faccio sforzi a uniformarmi o comunque a essere in sintonia con l'opera genoniana è una cosa che mi viene spontanea quindi non devo soffocare nessun moto di ribellione però ho cercato appunto di non deviare cioè di fare questo lavoro di pesca di andare a cercare i brani nelle varie opere e ricavare poi un filo conduttore ricavare una coerenza questa coerenza si può tradurre nel fatto che proprio solo dal punto di vista della rilevazione materiale Guénon non ha mai abbandonato la libera moratoria anche se la sua frequenza nel tempio a quanto pare si interruppe chi dice nel 1914 prima dello scopo della prima guerra mondiale chi dice nel 1916 ma poi successivamente lui disse fino al 1951 non ebbe più modo di praticare direttamente la libera moratoria ma nonostante questo se ne occupò in continuazione fino alla fine ci sono lettere e recensioni del 1950 in cui ci sono dei rilievi per quanto riguarda sia il simbolismo sia la storia della libera moratoria quindi questo già è un principio di base nel senso che non c'è stato un contatto che non massoneria occasionale è stato un contatto in età molto giovane che poi è proseguito anche se non c'è stata una frequenza diretta e poi bisogna poi ricavare da questo dopo questo contatto ricavare anche un giudizio di merito cioè poi alla fine che non che cosa ritiene della libera moratoria e naturalmente ci sono delle parti in cui la critica ma non critica tanto l'organizzazione quanto chi c'è all'interno ne critica la mentalità ne critica le deviazioni poi vedrò di fare un discorso più organico dall'altra la elogia cioè in certo senso la salva cioè esprime un giudizio per cui la libera moratoria cioè la massoneria e il compagnonaggio le riconosce riconosce queste due organizzazioni come valide dal punto di vista iniziatico nonostante tutto cioè nonostante quella che in francese sarebbe la degenerescence cioè che viene tradotto malamente in degenerescenza ma poi in realtà sarebbe una degenerazione che però assume forse in italiano un significato ancora più negativo comunque nonostante delle perdite obiettive nonostante delle deviazioni ma deviazioni non complete nella libera moratoria nel compagnonaggio che però interessa di più il mondo francese si può ancora rilevare un qualcosa di valido cioè la catena iniziatica la catena spirituale non si è interrotta ha subito dei forti scossoni ha subito anche delle mutazioni ma c'è ancora qualcosa qualcosa che può essere ancora allo stato virtuale allo stato non espresso ma è un germe che potrebbe anche germogliare infatti in alcune alcune brani alcune recensioni afferma che non si può escludere un risveglio un risveglio nel senso un ritorno poi parlando in termini tecnici dalla virtualità all'effettività però anche la virtualità è comunque qualcosa da difendere quindi quando si critica la libera moratoria e lo ha fatto naturalmente anche chi no non bisogna come si dice nel proverbio nel noto proverbio buttare via il bambino è l'acqua sporca ecco buttiamo via l'acqua sporca se possibile ma il bambino ce lo teniamo non è un granché non è il più bel bambino del mondo però è ancora vivo e questo è un po' il concetto fondamentale che ho cercato di rispettare nella suddivisione del libro che nella prima parte riguarda più temi di carattere generale e storico nella seconda più che altro temi di carattere simbolico che sono importanti entrambi io personalmente do una maggiore al carattere simbolico per quanto tornando un attimo un po' a Genome rispetto poi al libro cioè a Genome in sé bisogna dire che la sua forza la sua caratteristica fondamentale è stata quella secondo me anche se è difficile ridurre in una formuletta o in una frase breve o meno breve la sua forza è stata quella di ridare il significato ai termini cioè di lavorare in modo da ricostruire un ordine ricostruire anche una gerarchia di significati e cercare di raddrizzare quello che ahimè o era già storto o si era completamente ribaltato e si è rivolto a diversi vocaboli di uso comune che grazie a lui hanno riacquisito un significato un significato vero per esempio il termine originale che noi usiamo spesso quando attrezziamo a qualcuno la qualifica di originale ci aspettiamo che ci sia qualcosa di nuovo che ci sia qualcosa di strano magari ecco per lui invece la qualifica di originale vuol dire essere ricollegato all'origine che è al di fuori del tempo al di fuori delle modificazioni della manifestazione e quindi non è qualcosa di nuovo e di strano e di bizzarro come si ritiene che magari desta l'interesse perché non si è mai visto niente del genere no deve essere qualcosa fedele all'origine e al centro e per essere fedeli all'origine e al centro l'uomo di molte epoche precedenti a noi ma soprattutto l'uomo di oggi deve necessariamente avere un ricollegamento e ci sono delle organizzazioni che consentono questo ricollegamento ma questo stesso legame col centro può essere anche di carattere esoterico e allora lo stesso Guenot riconosce alla chiesa cattolica un carattere tradizionale valido però dal punto di vista esoterico che comunque ha il suo valore deve essere pienamente rispettato e in entrambi i casi la chiesa cattolica e la masoneria c'è questa magari non coscienza diretta ma comunque c'è questa presenza dell'origine questa presenza del centro del centro del mondo e restando invece tornando in ambito muratorio lui fece un lavoro molto particolare su due termini che sono molto usati che sono anche abusati nell'ambito appunto della masoneria cioè speculativo e operativo perché intendendo per speculativo comunemente qualcosa che ha a che fare con la speculazione anche con la speculazione filosofica cioè un'attività di tipo mentale che è considerata superiore alla mera attività di costruzione fisica si effettua secondo me un ribaltamento delle gerarchie in realtà la vera operatività è quella che si manifestava anche con la costruzione quindi aveva un risultato esteriore ma aveva soprattutto un risultato interiore cioè quello che bisognava ottenere era una grande opera intesa anche in senso alchemico una trasformazione interiore che si specchiava nel risultato esterno ma lo scopo non era esclusivamente quello di costruire lo scopo era quello di costruire e contemporaneamente modificare se stessi quindi un'operatività di tipo completo di tipo organico quello che è venuto meno con la transizione avvenuta si dice cioè storicamente nel 1717 qualcuno posticipa poi al 1723 per quanto riguarda poi la pubblicazione delle costituzioni di Henderson che cosa è avvenuto è avvenuto da un certo punto di vista un adattamento che può anche essere necessario è avvenuto quindi si può dire doveva avvenire perché se no non si sarebbe attuato ma questa transizione è stata una perdita non un aumento dell'importanza data ai contenuti concettuali ai contenuti anche se vogliamo spirituali no una contingenza di tipo storico in cui la committenza stessa non riusciva più a mantenere una un insieme di operai e di logge di di gilde che riuscivano poi a gestire delle costruzioni che erano diffuse un po' in tutta Europa quindi un cambiamento epocale questo ritrarsi fu comunque un depauperamento comunque il Genomo stesso dice che le logge operative non sparirono istantaneamente dopo il 1717 continuarono la loro attività diciamo pure che non seguirono questo tipo di scisma che però appunto non deve essere visto come un evento che ha eliminato la parte grezza diciamo ha eliminato degli operai che faticavano fisicamente ma poi alla fine non è che fossero delle grandi cime per dare spazio invece a degli speculatori in senso razionale che invece si potevano penetrare dei significati più profondi e con che questo fu un'operazione notevole un'operazione in cui andava controcorrente in cui doveva rimettere le cose a posto ma rimettere le cose a posto è estremamente faticoso perché poi ci si scontra anche con delle correnti di pensiero perché non fu un lottare contro la corrente tra i rari nantes che dovevano riuscire a fermare in qualche modo anche se non è possibile fermare determinati flussi ma comunque arginare gli effetti di correnti che avrebbero portato poi a un depauperamento completo probabilmente alla perdita completa della validità dell'iniziazione libera moratoria quindi anche in questo caso lavorò sui termini sui significati lo stesso significato della parola iniziazione la parola iniziazione è una parola estremamente abusata e continuamente utilizzata anche per delle cose particolarmente banali lui ribadì che per dare un valore reale effettivo e completo al termine iniziazione al termine di via iniziatica ci deve essere comunque una componente spirituale e questa deriva appunto da una catena che andando a risalire va addirittura al centro va a un centro che può essere anche temporalmente estremamente distante quindi bisogna risalire anche le stesse epoche della vita umana per riuscire a raggiungere qualcosa di effettivamente valido e anche in questo senso come ho detto prima le sue parole contro l'ideologia del progresso indefinito questo comunque è un suo terreno di base perché va esattamente contro queste ideologie di continuo progresso con un vago ottimismo per cui il futuro è sempre superiore a quello che è il presente il presente naturalmente estremamente migliore del passato che non va sostituito con un pessimismo di fondo per cui alla fine che cosa ci stiamo a fare qui tanto andiamo verso il disastro no perché infatti la sua stessa vita lo ha dimostrato non ha cessato di lavorare di scrivere in un'epoca in cui il computer non si sapeva neanche beh no forse negli anni 50 qualcosetta c'era ma comunque l'uso così diffuso dei computer non era neanche immaginabile non continuò a scrivere a rispondere a corrispondenti da tutte le parti del mondo sempre con attenzione sempre con rispetto e se no se avesse tratto le conclusioni più drastiche dal fatto che come sappiamo come ormai adesso si dice comunemente siamo nel Kali Yuga siamo nell'età oscura quindi le facoltà di ordine spirituale sono sempre più eclissate e chiaramente avrebbe mollato tutto avrebbe detto vabbè non fa niente andiamo tutti a finire male auguri no al contrario ne ha avuto addirittura uno stimolo per svolgere un'attività continua immarcescibile direi che si è prolungata anche dopo la fine della sua avventura terrena si è parlato soprattutto nei decenni immediatamente successivi di una specie di congiura del silenzio cioè per combattere quello che le cose molto scomode che aveva scritto che non una tattica poteva essere quella di lasciarlo ai margini ma in realtà poi questa tattica è cambiata perché poi che non ha continuato ad aumentare i suoi lettori anche post morte anche con delle raccolte importantissime che sono avvenute successivamente alla sua dipartita e ormai non si può più far finta nessuno può far finta di niente e le tattiche per andare a combattere o contrastarlo sono mutate ma non vorrei neanche dilungarmi in questo parliamo solamente di cose positive tornando alla raccolta io mi sono orientato in questo modo ho selezionato alcuni articoli che poi sono anche nella seconda terza pagina di copertina dove era già tutto pronto cioè fin dal titolo si capiva che Guenon si rivolgeva al simbolismo muratorio quindi non ho ritenuto opportuno né di consultare questi articoli ma ho semplicemente rinviato il lettore andate pure lì con fiducia è ovvio e non c'è il caso che io lo riporti sennò poi il volume sarebbe diventato anche più grande ma sarebbe stato inutile proprio un trasferimento di dati e basta e poi anche le stesse due raccolte che sono state citate prima le ho consultate esclusivamente per le recensioni allora nelle recensioni sono andato a cercare sicuramente ho lasciato tantissime cose ma sono andato a cercare cose che potessero avere una sua puntuale un puntuale interesse per quanto riguarda la corrispondenza invece ho riportato brani da due o tre lettere ma per il resto non mi sono avventurato sulla questione della corrispondenza ci sono opinioni contrastanti perché una lettera è comunque anche se intrisa di contenuti dottrinali è sempre qualcosa che risulta da un dialogo quindi che non sapendo con che aveva a che fare poteva avere particolari toni e battere su particolari tasti con un corrispondente e non fare la stessa cosa con un altro quindi le lettere vanno sempre prese secondo me anche per una questione semplicemente di rispetto perché una lettera se deve essere pubblicata anche se ormai gli epistolari non si contano più deve avere il consenso soprattutto di chi l'ha ricevuta e non è detto appunto che una lettera o uno scambio interno debba avere poi un interesse per cui tutti devono venire a sapere sono delle lettere di Gheron che adesso sono disponibili in cui parla magari dei problemi relativi alla guerra il che non è poco dei problemi relativi all'arrivo dei plichi alla mancanza alla lentezza queste sono cose che tutto sommato non è che abbiano un grandissimo interesse e quindi ho lasciato da parte quello e poi mi sono cimentato appunto in questa ricerca che è durata diversi anni e non ha avuto un andamento continuo ha avuto un andamento così a sbalzo e poi c'è stata l'occasione della pubblicazione e insomma l'ho colta al volo e la cosa mi fa molto piacere per quanto riguarda poi altre tematiche adesso qui è impossibile è chiaro fare una sorta di riassunto però ci sono altri temi che sono particolarmente cari proprio a Geno cioè traspare questo suo grande interesse e il fatto che ci tenesse che alcune cose venissero proprio rivalutate perché sappiamo e anche qua non mi dilungo il conflitto che è ancora purtroppo attivo tra la libera moratoria e la chiesa cattolica quindi inutile negare non ci sono stati forse ci sono stati c'è stato qualche ravvicinamento ma c'è ancora una una mancanza d'intesa l'intesa può venire esclusivamente sui principi e questo lo si può dire poi sono tanti casi particolari personaggi diversi che hanno opinioni diverse ma l'intesa può venire solamente dall'alto e speriamo speriamo che questa si possa manifestare ma dicevo al di là di questo Genome ha dedicato tantissime tantissime pagine al simbolismo cristiano al cristianesimo e poi anche al collegamento tra il simbolismo muratorio e il simbolismo cristiano e direi che forse il tema che più ha legato i due ambiti è quello del culto e del significato dei San Giovanni ecco su San Giovanni sui San Giovanni ha speso molte molte pagine tutte interessantissime che hanno poi dei risvolti di tipo cosmologico che interessano da vicino anche la libera moratoria per esempio lui teneva che le logge venissero dette di San Giovanni e poi che venissero festeggiati tra l'altro manca poco oggi è il sostizio d'estate poi tra tre giorni sarà San Giovanni d'estate cioè San Giovanni Battista e il significato cosmologico dei due San Giovanni è un significato dottrinale nella libera moratoria c'è anche un simbolo particolare che nella massoneria inglese che è quella di un cerchio con le due tangenti le due tangenti parallele che rappresentano esattamente i due momenti particolari in cui vengono festeggiati i due San Giovanni che sono in corrispondenza dei due sostizi che sono anche due punti limite dell'orbita apparente del sole rispetto alla terra il punto più basso e il punto più alto corrispondono facendo un collegamento col simbolismo hindù con la porta degli uomini e con la porta degli dei e quindi c'è molto poi e lo ha fatto che non in diverse pagine c'è molto da elaborare e da collegare perché una cosa importante da dire in generale su René Guenot è il fatto che sia riuscito a a unire simbolismi lontani tra loro apparentemente lontani apparentemente incompatibili ma che invece hanno in ogni caso un'origine comune perché tutte le tradizioni derivano dalla tradizione primordiale e poi hanno delle comunanze molto rilevanti nell'ambito del simbolismo quindi così come esistono i due San Giovanni queste due porte e esistono le porte degli dei che corrisponde poi al momento della nascita della discesa dell'avatara della discesa degli dei e la porta degli uomini che dovrebbe essere quella che corrisponde al sostizio d'estate e quindi ci sono tanti poi sono anche altri esempi di simbolismo di tipo moratorio che apre degli orizzonti che potevano sembrare assolutamente inesplorati ecco un'altra cosa che si ricollega allo studio del simbolismo ma più che altro alla sua negazione è il fatto che Genome fosse deciso nel eliminare sia dal punto vista teorico poi sarebbe stato bello non l'eliminazione fisica di chi faceva ciò ma l'eliminazione di questo tipo di mentalità cioè della mentalità dell'impegno o è tanto peggio delle intrusioni politiche nell'ambito moratorio cioè secondo Genome questo era non solo una deviazione dallo scopo ma anche un vero e proprio questo termine l'uso io veleno che tendeva poi a eliminare la dimensione spirituale a ignorarla completamente cioè trasformare la libera moratoria in un ente di beneficenza in un ente morale o peggio ancora in un partito politico è qualcosa che è completamente estraneo alla natura ha scritto anche un articolo chiaro come di consueto il punto di vista rituale e il punto di vista morale quindi non è detto che una persona che abbia interessi spirituali di tipo esoterico debba trascurare non so un aspetto come la beneficenza o la generosità d'animo ma non deve essere quello un fine a se stesso cioè la questione morale ha la sua importanza al livello giusto ad un livello più elevato la questione morale in un certo senso è sottointesa quindi non può essere il punto principale infatti nelle pagine di Guenong è difficile che si trovi qualcosa che possa assomigliare a un moralismo alla condanna di determinati comportamenti diciamo che lo lascia un po' sottointeso non ha bisogno di spiegare determinate cose si occupa di cose superiori che però comprendono anche la parte inferiore più legata alla sentimentalità ecco mi è venuto in mente proprio dicendo questo tra l'altro vediamo se mi dite se mi devo fermare oppure se vado ancora avanti mi è venuto in mente parlando della sentimentalità che una delle accuse che vengono fatte a Guenong è quella della mancanza d'amore non cita molto l'amore devo dire e quando parla di amore parla di amore in senso superiore ad esempio il grido dei cavalieri templari era viva Dio amore santo quindi un amore che poi corrisponde a quello che era presente nei racconti dell'epica cavalleresca l'amore che muove il sole e le altre stelle quindi un amore inteso sempre nel senso più elevato però bisogna dire che esaminando la sua esistenza come ho detto prima c'è una tale dedizione alla causa che poi per alcuni può anche essere una causa non completamente corretta ma però una causa che è perseguito con coerenza fin dalla giovinezza fino alla fine che dimostra comunque un grado di amore un grado di amore anche verso gli altri perché lo scrivere libri sì poteva essere sicuramente anche per lui una soddisfazione personale poteva essere anche un modo per campare perché no però era soprattutto qualcosa che riusciva a offrire a molte persone l'occasione di una vera conversione una conversione completa intesa nel senso reale del termine non nel passaggio a un'altra religione poi odiando la religione di origine ma in realtà un cambiamento di mentalità che doveva essere completo e si spera che sia completo ed è appunto Guénon colui che ha fornito tantissime occasioni a chi le vuole cercare senza il bisogno poi di rilaborare volendo mi sto dando la zappa sui piedi tantissime occasioni di riuscire a capire che c'è qualcosa c'è un oltre che non è poi così irraggiungibile e che l'esistenza umana ha veramente un significato quindi nella parte della massoneria si esalta quello che viene chiamato il dubbio un dubbio sistematico il dubbio può avere una sua relativa utilità nelle prime fasi della ricerca cioè non essere proprio dei boccaloni non avere dubbi e andare a sbattere dal primo muro però poi successivamente che non stesso afferma ci deve essere una certezza che è quella che forse è più contraria allo spirito del tempo che stiamo vivendo che poi però ipocritamente ci propone delle certezze indiscutibili quindi c'è un antidogmatismo per usare dei termini anche in ambito religioso un adogmatismo che però funziona a senso unico poi invece ci vengono imposte delle realtà delle abitudini dei risultati dei rimedi alla nostra situazione umana transeunte che sono indiscutibili quindi questa ambiguità di fondo della mentalità comune che viene imposta in realtà perché non è una delle tante forme di ipocrisia che invece deve essere superata anzi bisogna evitare le dietribe di evitare necessariamente i conflitti e camminarsi in un sentiero che deve dare delle certezze delle certezze poi irrevocabili a volte si dice la fede uno ce l'ha è un dono insomma un discorso un po' complesso ma si dice anche ho perso la fede oppure questa persona ha perso la fede ma si è perso la fede non ce l'aveva neanche prima cioè la fede è anche conoscenza la conoscenza è irreversibile un po' come imparare ad andare in bicicletta si impara ad andare in bicicletta adesso non sono più capace no è qualcosa connaturato la conoscenza vera la conoscenza libresca è qualcosa che entra dentro e poi non consente più di tornare indietro cioè una presa di coscienza completa radicale che non dà più spazio alle incertezze che non dice che ciò è possibile è possibile ci si può incamminare in questa via quindi dà un messaggio di speranza e anche di amore se proprio vogliamo allargare il discorso quindi secondo me la sua opera insomma io l'apprezzo tantissimo se no non mi sarei messo in questa in questa impresa ed è da valutare se vogliamo anche dal punto di vista umano c'è anche l'umano c'è il sovrumano ma c'è anche l'umano c'è un conforto che aiuta nel cammino e ci fa credere anche che un cammino possa essere percorso e un cammino può essere quello della libera moratoria mi fermerei qui per adesso quantomeno non so se andiamo ancora in questo caso ma in questo caso condivido penso che tutto quello che hai detto stavo riflettendo però che tanta dedizione e tanto interesse che Genon ha prodigato nel corso dei decenni anche anche alla libera moratoria perché non dimentichiamo che le opere principali di Genon vertono su grossi filoni diciamo della metafisica della spiritualità non necessariamente europea anzi forse poco europea però ecco mi sembra che non ci sia non sia stato contraccambiato in ambito in ambito massonico da un apprezzamento adeguato all'interesse di cui manifestato nel senso che la ricezione dell'opera genoniana nelle massonerie ufficiali è piuttosto scarso e anzi da quegli ambienti sono sempre provenute delle critiche più o meno astiose la stessa cosa si è naturalmente verificata anche verso altri ambienti penso per esempio a quello cattolico lui ebbe anche la ventura perché diciamo le opere e i loro autori che non 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 a finalità storica però sono sempre da storicizzare bisogna anche dire che lui ebbe la sfortuna di incontrare nell'ambiente cattolico francese il neotomismo che era imperante all'epoca parlo di Maritain ma anche del comitato di reazione della rivista Regnabit dalla quale a un certo punto fu costretto a uscire per una sorta di idiosincrasia per la sua anche per il suo interesse a una metafisica diversa da quella domistica insomma che era l'espressione di una chiesa in retroguardia e in stato d'assedio insomma che tentava in qualche maniera di sopravvivere a se stessa o perlomeno a una certa sua posizione storicamente determinata però ecco mi sembra che in massoneria non ci sia stato questo grosso apprezzamento ho letto da qualche parte anni fa insomma che ci fu un attacco considerandolo come un apostata e poi curioso che in massoneria si faccia il debito a che non di essere stato un apostata rispetto al cattolicesimo insomma alle volte alle volte a scopo polemico si usano anche gli argomenti più peregrini o perlomeno meno proponibili ecco volevo sapere come come avevi dal tuo osservatorio come hai visto questo rapporto che non mi sembra più univoco ecco da parte della masseria e nei confronti di che non sono d'accordo con quello che hai detto è un tasto che non ho toccato mi sono lasciato un po' prendere dall'onda e ho vissuto per qualche minuto in un mondo di fiaba mi sono creato il mio mondo e adesso mi hai fatto giustamente ritornare sulla terra perché quello che hai detto è ineccepibile non si può certamente dire perché Guénon appunto è apprezzato data l'una e che si è apprezzato da tutti no non solo ma anche ci sono state delle reazioni particolarmente violente ed è una cosa che lui stesso aveva messo in conto quindi onore al merito però bisogna dire che ci sono state delle ostilità notevoli a volte anche grotesche se vogliamo lui è riuscito a combattere perché anche lui vivente ma infatti la questione di Regnabit poi la questione del neotomismo l'ha vissuta anche in vita e non solo poi è proseguita successivamente quindi è riuscito in parte a controbattere ma era anche abbastanza intelligente da capire quali terreni doveva continuare a battere e quali altri terreni invece doveva lasciare dove erano d'altra parte insomma come hai detto tu io non l'ho sottolineato aspettiamo un secondo parlo sopra si sente ancora ecco sì dicevo che si è riferito a tutte le tradizioni con diverse ampiezza direi che dal punto di vista dottrinale si è basato soprattutto sull'induismo poi lui stesso fin dal 1912 o 11 era entrato nell'esoterismo islamico e ci è rimasto per tutta la vita trasferendosi poi dal 1930 al Cairo quindi cambiando completamente vita non cambiando mentalità ma riuscendo poi ad esprimere anche nell'esteriorità quello che era la sua mentalità tradizionale e quindi è vissuto da islamico e ci sono molti riferimenti islamici naturalmente nella sua opera i riferimenti cristiani li ho già nominati prima poi la grande triade è dedicata abbastanza specificamente al simbolismo estremo orientale quindi ha spaziato un po' un po' ovunque sia nel tempo sia nello spazio cioè nella contemporaneità e in alcune situazioni ha ricevuto anche come detto delle repliche non sicuramente positive ma d'altra parte fa parte fa parte del gioco quindi senz'altro quello che hai detto e anche in ambito moratorio ci possono essere delle persone che lo apprezzano ma molti o lo ignorano oppure non lo considerano una valida guida se tocco finale naturalmente le contumede nei confronti non diciamo così rastrellate un po' in tutti gli ambienti rispetto ai quali ha diciamo espresso punti di vista non condivisi hanno trovato poi anche in Italia alcuni particolari palladini palladini dell'offesa mi riuscisco per esempio a Umberto Eco e a tutta una certa cultura che ne ha fatto il bersaglio di di chiedi anche anche piuttosto sì grottesche per usare per mutuare un termine che è impiegato poc'anzi quindi però credo che queste 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 reazioni spesso in generoso o comunque del tutto fuori fuori mira sono una risposta a una contrapposizione forte di che non che non non è un espressione di un pensiero debole è espressione di un pensiero molto forte e proprio questa forza forza delle sue argomentazioni forza della critica radicale pensa a opere tipo la crisi del mondo moderno il regno della quantità e i segni del tempo che sono di opposizione completa a alcuni indirizzi che ha preso la società la nostra cultura non potevano non suscitare delle azioni delle reazioni ecco nel senso veramente reazionario delle reazioni quantomeno altrettanto altrettanto vivace quindi voglio dire che se il compito di Kenone era quello di dare dei segnali o diciamo così raddrizzare certe situazioni comprese a quella della libera mulatoria sicuramente anche le reazioni che ha suscitato sono un indice di efficacia del suo pensiero e delle sue opere se ci sono domande prego si riprendo brevemente il discorso che avevamo fatto il 12 maggio a a prescia perché c'era stata la conferenza di galoppini rada e se non sbaglio anche claudio multi ecco una cosa velocissima sul discorso della chiesa cattolica io come San Natale ho seguito molto il percorso di Marco Vannini che ha fatto un lavoro imponente traducendo l'immenso Eckhart nella valutazione del rapporto tra l'altro Eckhart non ha quella prospettiva simbolica che c'è in Dante quindi però è interessante è importante la quantità di prospettive che presenta dal prego Dio che mi liberi di Dio chiaramente è una chiave anche di leggere un ghanù che non può essere mai spiacecato intorno a una dimensione semplicemente reazionaria ci sono di mezzo la differenza fra liberazione e salvezza ci sono di mezzo di tutta una serie di tematiche importantissime ecco c'è stato questo la chiesa cattolica ha in qualche maniera tracitato in definitiva secondo me anche Marco Vannini perché poco appare poco è così è una cosa importantissima un italiano che ha tradotto tutto tutto Eckhart Silesio il Pellegrino l'altro discorso che volevo dire parlare di Ghanou e della mazzoneria comporta anche e questo è importante seguire il percorso della grande triade della loggia della grande triade e poi in definitiva delle tre persone che erano state gli animatori da una parte cominciando dal cattivo Reior poi arrivando a quello medio bravo e poi arrivando a quello che in Italia ha a tutti noi segnato chi era che non Roger Maridorte ecco tra l'altro non sono più misteri per nessuno perché certe cose si trovano pari pari nel sito Cestu la vicenda di Maridorte cioè Reior in qualche maniera ha fatto una deviazione verso una massoneria antimassonica cioè Denis Romain ha avuto grandissimo merito di fare tutta una serie tra l'altro i suoi libri non sono mai ancora tradotti in italiano e questo mi fa sempre impressione però non sono tradotti nonostante i contenuti che c'è e poi Maridorte che abbastanza silenziosamente ma ha derivato tutte le traduzioni di Guenon la rivista tradizionale e tutto così ecco il bilancio presupperebbe anche vedere che cosa hanno fatto questi filoni cioè appunto non è un mistero per nessuno Roger Maridorte è stato animatore delle loggie Iram e Anamnes di Torino ho visto ecco c'è tutta una serie di filiere di nuovo c'è la rivista tradizionale grazie a Medo Zogi c'è il lungo lavoro di Armonia Mundi c'è il lavoro che è stato fatto dalla parte su Oralogos che hanno fatto un lavoro imponente di traduzione e di confronto quindi ci sono tutti quei terreni si apre poi il terreno di qual è stato la prospettiva islamica non massonica in Italia che anche questa ha dei rapporti importanti tipo Peregna Verba Aurizzi tutta la traduzione delle onevette questo è un panorama che secondo me può spesso volentieri non è conosciuto le stesse vicende delle lezioni IRF le stesse vicende anche di come si chiama per l'altro Zamboni Ide Zamboni degli orientamenti non vorrei dimenticarmi un altro ma ce ne sono ecco queste così queste prospettive che è interessante tra l'altro spesso e volentieri ho visto poi chiudo ho visto appiattito anche Schum considerato mentre invece c'è la mela divergenza anche con Schum poi segnalo che c'è c'è la vicenda di Simbolo su tutto il mondo dell'Opera di Guenon nella cultura dell'America dell'America Latina della Spagna c'è Francesco Ariza tutta una serie di questioni che sono molto interessanti proprio da prospettiva massonica e poi vabbè è inutile parlare poi della vicenda di Evola che tutta una serie di problematiche diverse che io cercherò forse di affrontare nella trasmissione e poi c'è la vicenda dei Reghini su cui si fece il convegno a scritto Natale e il suo importante libro e poi c'è stato Sestito che ho conosciuto e Milano Armentana che ho conosciuto a Firenze anche questi sono cose importanti per vedere qua la parte delle Reghini è importante conservare per facilitare anche l'accesso alla lettura di Reghenonda con una prospettiva aperta e incondizionata grazie giustamente ecco ha fatto molto bene l'amico Giapperini a ricomporre un certo panorama sia francese italiano e anche di altrove i rapporti comunque italiani nella biografia di Genone sono alcuni importanti sicuramente quello con Julius Evola che è stato appena ricordato con consonanze e dissonanze che avrebbero dei capitoli piuttosto lunghi da affrontare la stessa cosa con Reghini con il quale forse c'è stata una maggiore sintonia ma anche qui con alcune divergenze insomma Reghini non diciamo così non approvò fino in fondo la proposta dell'elite che pure dell'elite intellettuale che Genone aveva manifestato espresso fin da Oriente e Occidente insomma siamo quindi a metà degli anni 20 poi sono stati altri rapporti secondari insomma ma non meno non meno profondi in Italia potete fare dei nomi ma insomma allungheremmo semplicemente la lista tra l'altro ha corrisposto con gli italiani fino al 1951 insomma fino a quando è morto vedo che di costruire rapporti di Genone con una parte dell'intellettualità italiana dicono nel senso migliore del termine intellettualità sarebbe già una cosa piuttosto impegnativa ecco la mia impressione è che comunque per tornare a quello che ti avevo posto il rapporto massoneria versus versus Genone è che la massoneria dal 1717 del 1723 comunque la si voglia far nascere nella sua versione moderna e radicalmente antitetica quindi credo che in realtà il pensiero di Genone e il modo di essere lo status delle organizzazioni massoniche siano antinomiche non credo che ci possa essere un come dire un convergenza le organizzazioni massoniche diciamo così ufficiali non ufficiali insomma come le conosciamo come si manifestano hanno ormai una loro declinazione che mi sembra non suscettibile di reviremo o rovesciamenti diciamo che tra il dubbio che tu hai ricordato il culto del dubbio il culto del trinomio libertega di te fraternite eccetera insomma indubbiamente le conferiscono una fisionomia che non mi sembra molto omogenea rispetto al pensiero Genoniano soprattutto in prospettiva perché il mondo va avanti insomma dal 51 quando è morto Genon alcune cose sono ultimamente modificate penso per esempio all'Oriente quale lui l'ha conosciuto compito quello del Cairo o del mondo diciamo dell'islamico del Medio Oriente rispetto alla situazione di Erna anche il divenire la storia diciamo vanno presi in considerazione prego no forse non è necessario no no per la registrazione ho pochissimo di Genon quasi nulla però mi ha incuriosito questa al di là di questa discussione molto per addetti ai lavori ma è una curiosità non so se me la può togliere perché Genon poi si converte all'islamismo e va a vivere al Cairo ma c'entra in modo particolare la sua attenzione sempre che ci sia stata non lo so infatti lo chiedo nei confronti del sufismo di questa parte molto spirituale dell'islam o no? Dunque sì il sufismo è fondamentale quindi il suo interesse era per la parte esoterica quindi rappresentata dal sufismo il suo ingresso appunto viene fissato o nel 1911 o nel 1912 poi il suo trasferimento al Cairo è legato a delle situazioni contingenti ma poi anche lì le motivazioni vere potrebbero essere anche diverse perché lui si era sposato non ricordo esattamente in che anno ma nel 28 nel 1928 tra l'altro si dice che andasse anche ci fosse una grande intesa con la moglie soprattutto dal punto di vista spirituale nel 28 rimase vedovo e anche altri suoi legami familiari si distaccarono si ritrovò un po' solo e allora nei suoi cominciò anche a viaggiare e si ritrovò al Cairo e a quanto pare non aveva intenzione di fermarsi così sembra però poi alla fine si fermò e quindi passò gli ultimi 21 anni 20 anni della sua vita al Cairo e si può dire che non fu esattamente una conversione cioè una conversione intesa nel senso comune sarebbe detta in soldoni passare da una forma religiosa ad un'altra ritenendo ovviamente quella di arrivo superiore o più adatta alle proprie caratteristiche e spesso i convertiti anche se non è una regola scritta manifestano poi un po' come la prima moglie insomma manifestano dell'astio e della forma di rifiuto per ciò che erano stati fino al giorno prima quindi in questo senso una conversione per negare valore a quello che quello in cui era precedentemente no però un cambiamento fu legato appunto alla sua partecipazione al sofismo che è la forma esoterica dell'islam quindi in questo senso si può rispondere tranquillamente e questo è il motivo poi ci sono stati anche motivi contingenti altre cose che ci sfugono però la realtà dovrebbe essere quella quindi la forma islamica è quella che ha abbracciato che ha vissuto integralmente addirittura si diceva che non pensasse più in francese ma i suoi pensieri fossero in arabo conosceva l'arabo perfettamente viveva in un paese in cui si parla comunemente arabo quindi c'era stata almeno esteriormente un cambiamento completo ma che in realtà poi non aveva modificato la sua condotta le sue idee e volevo dire solamente una cosa non voglio allungare troppo il filmato ma che una piccola una piccola speranza Denis Romain aveva coniato una formula che poi ha avuto un certo successo che la massoneria è l'arca vivente dei simboli nonostante che appunto anche all'epoca la situazione non fosse erosea in una nota Denis Romain dice che Guenogli aveva detto che appunto nonostante il vessillo Guenogliano non garrisse sull'asta dell'edificio della massoneria ma che molti massoni in realtà erano non dico opposti ma quantomeno ignoravano tutte le tematiche diceva che in ogni caso la massoneria poteva avere una sua forza addirittura dal punto di vista quantitativo cioè dal fatto che questi tanti aderenti rendevano la massoneria in un certo senso indistruttibile sì certo non è che restava la massima qualità però c'era una base una base che poteva servire da supporto e comunque questa visione dell'Arca Viventi è rappresentata da un elemento simbolico che è il quadro di loggia e nel quadro di loggia c'è praticamente l'unica forma di arte massonica conosciuta operativa perché è qualcosa che si può anche disegnare ed è letteralmente un ammasso un ammasso non in senso negativo ma è un insieme di simboli tutti insieme che sono un po' il simbolo di qualcosa che viene messo insieme per essere salvato e quindi con questa piccola speranza io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno non me lo sogno neanche ma magari che ci sia qualcosa sul fondo quindi non completamente vuoto e poi non si sa mai perché Dio vede provvede e quindi chissà chissà cosa ci prospetta poi effettivamente domani chiudiamo va bene grazie ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito sia in presenza sia online ringraziamo sia Natale Mario Di Luca e Sergio Castellino per la conferenza di stasera su Genon che verrà poi caricata sul canale YouTube della libreria Rodotti grazie 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 grazie